Comprensori stradali della provincia di Perugia all'opera sulle strade provinciali e regionali di propria competenza a seguito degli ultimi eventi tellurici. L'intero personale è a lavoro dalla mattina di domenica per far fronte ai nuovi danni provocati dalle violente scosse di ieri grazie alla loro opera di rimozione e sgombero di materiale detritico su alcuni tratti stradali è stato possibile fin dalla stessa giornata di ieri ripristinare condizioni minimi di transitabilità e pertanto riaprire al traffico. In particolare, secondo quanto rende noto l'area viabilità, si tratta della strada provinciale 471 di Santa Anatolia di Narco, in località Gavelli, dove erano caduti massi di grandi dimensioni, della strada provinciale 476, il tratto in località Civita di Cascia, della provinciale 476 secondo, tratto in località Fontevena, dove si era aperta una grossa voragine. In questo caso la riapertura della strada interessa il tratto da Norcia a Campi di Ancarano, mentre resta la chiusura in località Piedivalle di Norcia, dove a chilometro 14 più 500 il passaggio è interdetto a causa del crollo di un edificio. La provincia sta nel frattempo valutando le situazioni più delicate per poi procedere celermente all'affidamento dei lavori di somma urgenza con cui mettere in sicurezza le strade interessate.